Cresce la tensione tra i cittadini di Catanzaro per la decisione dell'amministrazione comunale di realizzare l'isola pedonale in Corso Mazzini. In particolare a protestare sono le mamme del Gallupi, alle quali la creazione della zona traffico limitato non consente di accompagnare i prodotti in automobile fino all'ingresso della scuola. Critiche arrivano anche dalla compocommercia di Catanzaro, che pur non essendo pregiudizialmente contraria alla ZTL, rimaca che è necessaria la presenza di servizi adeguati a supporto dei commercianti e dei cittadini che allo Stato non ci sono. Si sottolinea come la mancata concertazione del provvedimento fa sì che questo sia vissuto come un'imposizione e non come qualcosa di utile. Sulla questione è intervenuto anche l'Osservatorio per il decoro urbano, che ha invitato i catanzaresi animati di buona volontà e dotati di senso civico e di amore per la città a dare un segnale di orgoglio e di rinnovato interesse per il decoro cittadino, collaborando con l'amministrazione nel risolvere quei piccoli problemi che immancabilmente possono nascere, magari rinunciando anche a qualche abitudine. La questione dell'isola pedonale sarà affrontata da un apposito tavolo di concertazione promosso dall'MPA il prossimo 15 gennaio nella Sala del Consiglio Provinciale.